e chiudo allora dicendo che non è che questo è un viaggio più disorganizzato di altri è più problematico per l'appunto perché si diceva in barca la volta scorsa sono due progetti che stanno uno dentro l'altro sono realtà e linee operative, modelli di pensare il progetto molto diversi tra di loro e stanno cercando di trovare un'amalgama questo è un tentativo si fa di giorni la malizia di papà questo è quello che voglio fare a proposito di ansia questa è una gran pezzata tu puoi dire questi sono incidenti che capitano perché nell'aprica la tua malizia che non devono capitare è caduta la tua malizia possiamo prenderla ridendo a Gori perché è brava io ammiro moltissimo a Gori ma dai è bellissimo perché c'è proprio questa bellezza proprio della spontaneità questa devi riprendere la ripresa voglia posso prenderla? posso prenderla? e lei lo prenderla niente non lo dà che mi ha una valigia volata con tutti i passaporti e soldi dentro appunto, pensate allora la tua valigia che vola come ti senti? si con il passaporto e tutti i soldi dentro mi sento benissimo mi sento benissimo non togne controllare la chi le casola pensate che non può prendere la responsabilità è davvero importante sono i manorchi, i alla fall anche i manorchi si è ma manorchio, ti devi mettere i bagni ti tu dovrei mettere con i bagni ti diti ti sape se non zi C'è il progetto Eugad, le cose stanno insieme naturalmente perché siamo tutti insieme in questa macchina, i membri di Eugad. Stiamo cercando, in qualche modo riuscendoci, in qualche modo no, di trovare anche in modo di rappresentare queste diverse esigenze, che talvolta coincidono, qualche volta no, qualche volta si scontrano e si fa tutti i giorni un lavoro per oliare i meccanismi che non sono mai stati inventati fuori. Io non sono né, come vedete, nervoso, né allarmato, come constatato, né preoccupato di quello che sta accadendo, al contrario, lo considero un aspetto del problema che si sta tentando di inquadrare per risolverlo, con delle soluzioni sì, delle soluzioni no, ma certamente già con dei risultati. Quelli di aver fatto comunque già dei filmati dopo il 20-30 giorni che siamo partiti per la prima volta, è il modo che testimonia come questa equip qua dentro, è parte di un progetto che comunque ha già la sua visibilità, posso mostrarla questa visibilità? Spero di sì, perché questa è parte costitutiva del nostro stare insieme. c'è un problema di compatibilità. Il modo che mi lavorano non può essere sicuramente con il modo che mi lavorano, per esempio, o con il modo che mi lavorano, per esempio. E molto più, c'è bisogno di sensibilità di sensibilità. C'è bisogno, per esempio, mio amore, Franco Franco, per esempio, ha bisogno di sensibilità di diagnosi, ha bisogno di sensibilità, ha bisogno di sensibilità, questo è il mio opinione. C'è bisogno di parlare di comunicazione, come si può fare, tutto questo è molto importante, ma queste sono cose che dovrebbero essere guardate in futuro. credo che questa è l'ora di andare.